Quest'anno torniamo con 14 appuntamenti, 14 martedì dal 4 giugno al 3 di settembre e la novità comunque c'è sempre perché il San Pietrino ormai si sta allargando sempre di più una collaborazione sempre più stretta con artisti, esercenti e associazioni della città in modo che questo salotto abbia sempre più risalto. È un anno importante, è l'anno della capitale della cultura, quindi ci sono tante collaborazioni in più. Avremo serate di musica, musica classica e quest'anno la grande novità è che avremo il terrazzino con la musica dal vivo e i ragazzi del Conservatorio Rossini, i nostri soliti food truck, grande importanza come al solito al mercatino degli artigiani. Martedì 4 giugno, vi aspettiamo numerosi, dura fino al 3 di settembre, tutti i martedì da giugno a settembre.